Nel 2018 saranno 30 gli anni di attività dei trapianti di rene e pancreas all'azienda ospedaliero universitaria di Padova. Un cammino che ha segnato risultati trionfali alla luce di un'evoluzione capace di consentire il superamento di inconvenienti legati per esempio alla disponibilità di donatori in termini di tetto di età e organi oppure all'incompatibilità del gruppo sanguigno. 2050 sono stati gli interventi relativi ai due organi anche simultanei soprattutto in pazienti diabetici eseguiti nella città del santo nei quasi sei lustri di tempo di attività arrivando anche a realizzare un doppio trapianto nello stesso ricevente. 1191 gli interventi da paziente deceduto quasi 400 quelli da donatore vivente dato quest'ultimo che colloca la realtà e Uganea al primo posto assoluto in Europa. Il punto dolente restano i tempi d'attesa. L'attività di trapianto coinvolge tantissime persone, tantissimi specialisti e quindi l'ospedale di Padova che è considerato uno dei primi ospedali in Italia nel sito di trapianti credo che proprio possa disporre di tutte queste competenze e quindi è un grosso vantaggio lavorare in questo ospedale. Quando abbiamo iniziato molte cose sono cambiate, l'età dei donatori è diventata, ormai utilizziamo donatori in età molto avanzata anche sopra gli 80 anni e un tabù che c'era che era quello di non poter trapiantare pazienti con gruppo sanguigno incompatibile è stato assolutamente superato. Quindi il trapianto da vivente che soprattutto in Italia era poco utilizzato sta crescendo sempre di più quindi sicuramente è cambiato. Purtroppo i pazienti in attesa sono ancora tanti e quindi non possiamo dire che abbiamo raggiunto il traguardo finale di trapiantare in tempi brevi tutti i pazienti che aspettano il trapianto. Il tema del tempo di attesa sul trapianto come per gli interventi chirurgici io credo che sia un tema che è molto più vero che non per la vista di attesa per una visita specialistica. Qui purtroppo l'organizzazione è super efficiente, siamo legati ai donatori e io credo che il gesto di civiltà che fanno i donatori e tutti quelli che sostengono l'attività di donazione di organi sia un segnale forte della compattezza che c'è nel Servizio Sanitario Nazionale e nelle persone che rendono possibile questi traguardi.